Potrebbe essere conquistato da una rappresentante del mondo dell'istruzione del Golfo di Policastro il titolo di Personaggio Ambiente 2013, il premio che si propone di assegnare un riconoscimento a chi ha svolto un ruolo di rilevanza per l'ambiente in Italia attraverso la proposizione di idee, pratiche, informazioni politiche e imprese. Tra i 19 candidati spicca anche il nome della dirigente dell'Istituto Comprensivo Teodoro Gazza di San Giovanni Appiro, Maria De Biase. È lei la preside che è riuscita a portare il cambiamento tra i banchi di scuola, promuovendo, proprio tra i più piccoli, la cultura del rispetto dell'ambiente. Non parole né tantomeno annunci, ma azioni concrete, visto che il cambiamento è stato inserito ufficialmente nella programmazione didattica e nell'organizzazione scolastica. Sono stati fissati, come punti cardine del percorso formativo dell'Istituto Comprensivo San Giovannese, la permacultura, l'ortosinergico, laboratori di autoproduzione, riparazione e recupero delle conoscenze tradizionali locali, la raccolta degli oli esausti. E ancora al Teodoro Gazza di San Giovanni Appiro si è detto addio alle merendine e alla plastica usa e getta. Si imparano e si sperimentano così, realmente e quotidianamente, i modelli e le strategie per affrontare il futuro in maniera salutare e ad impatto zero. Artefice del cambiamento, come detto, è stata la dirigente Maria De Biase, che oggi è chiamata in giro per l'Italia da altre scuole che vogliono seguire il suo esempio. Dunque ha tutte le carte in regola per essere scelta come Personaggio Ambiente 2013. Per votarla è necessario entrare nel sito www.personaggioambiente.it, registrarsi a quel punto è davvero semplice. Un clic sulla voce vota qui e poi un ultimo colpo di mouse per imprimere la preferenza sul nome di Maria De Biase. Ora però i tempi stringono chi volesse votarla a tempo fino alle 17 del 31 dicembre.